Io presento questo disco che si chiama Amore Amaro, quindi ho fatto una ricerca e una lunga riflessione su questo sentimento dell'amore e così ho ricercato nell'ambito ovviamente delle musiche tradizionali nell'Italia tutti i brani d'amore e rivisito un po' questo sentimento con tutte le sfaccettature che questa emozione può dare. Io credo che l'amore ti può svelare e mostrare la parte più cattiva e la parte più buona di noi stessi. Guarda, la sensazione per me è come se fosse il mio primo concerto sinceramente, quindi mi sento emozionata che non so neanche io, guarda, non lo so spiegare perché fa strano diciamo, per me sono vent'anni che sono sui palchi ed è la prima volta che sono quattro mesi senza salire su un palco e quindi ho l'impressione di non saper più cantare, non lo so cosa succederà ma mi sembra di essere il mio primo concerto. Mai provata questa sensazione se non vent'anni fa forse.